Sono le 15.22 di questa insomma domenica tra l'altro anche soleggiata e noi abbiamo il piacere di ospitare R. Buon pomeriggio benvenuto a Radio Roma Buon pomeriggio a voi Buon pomeriggio, allora noi tra poco andremo anche ad ascoltare un tuo pezzo davvero molto molto bello che è Vecchia Roma Ci racconterai tutti i retroscena di questa bellissima canzone ma prima volevamo chiederti Ti vai di parlarci un po' di te, della tua musica, di com'è nata anche la tua passione per la musica? Certo, allora guarda io ho iniziato a 13 anni quasi per gioco tra i banchi di scuola con il compagno di banco E poi c'è stata tutta un'evoluzione, insomma ero sempre quello che voleva provare a fare musica Mentre i gruppetti intorno prima appoggiavano poi magari passava un po' la passione eccetera E ho continuato così quindi per oltre 10 anni finché si è strutturato un team attorno a me Con il quale abbiamo iniziato un percorso vero e proprio, insomma per farlo davvero E abbiamo messo in piedi questo che è appunto il ritrovo, che è questo primo disco con il quale ci presentiamo sul mercato Che c'ha l'anima veramente nostra dentro, non solo mia ma proprio di tutto il team Quanto tempo avete lavorato a questo primo disco? Allora ci abbiamo lavorato un anno e qualche mese La cosa divertente è stata che erano proprio i mesi di zone gialle, rosse, no? Quindi non ci potevamo vedere, è stato fatto tutto completamente su Zoom, su Skype eccetera Quindi anche questi strumenti collegati alle schede audio che risuonavano in ritardo, no? Scusa puoi ripetere, vediamo com'è, cioè tante aneddoti divertenti Eh sì, super complicato, una realtà che abbiamo vissuto tutti ma che sicuramente applicata a un progetto musicale Insomma la difficoltà diventa super complicata perché non è uno smart working come gli altri diciamo Cioè c'è tutta la complicazione dell'audio E noi adesso volevamo chiederti qualcosa di questa canzone che stiamo per andare ad ascoltare Che è Vecchia Roma e volevamo però introdurla perché in realtà ha una storia molto particolare Cioè tu sei andato a recuperare uno stornello romano potremmo dire, giusto? Sì, sì, siamo andati, in realtà sono, sì, sono andato a recuperare questa canzone popolare romana E l'idea non è stata, no? Proprio mia di principio ma è stata data dal fatto che ho sentito nonna che la cantava Perché dovete sapere che mia nonna abita proprio davanti a me, nella finestra davanti E l'ho sentita così che la cantava, ci mancava una canzone per chiudere il disco Avevamo solo delle idee che non ci convincevano 100% e appena ho sentito nonna, non so, ho sentito l'obbligo morale di fare questa cosa Quindi diciamo c'è un legame anche affettivo molto molto forte con questo pezzo Sì, 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 è qualcosa che insomma, come ho detto anche a tutti gli altri È comunque un qualcosa che rimarrà a vita insomma Sia a livello musicale ma anche in famiglia proprio come cosa accaduta Quindi ne siamo contenti a priori E allora io direi di ascoltarlo subito, qui su Radio Roma, R. con Vecchia Roma Questa canzone ha una potenza espressiva assurda, R. Vecchia Roma, qui su Radio Roma e noi l'abbiamo qui con noi Ma è bellissima, complimenti Grazie, grazie mille Ma allora noi sappiamo anche che purtroppo insomma non avevamo il video Ma abbiamo avuto una bellissima copertina che ci sta seguendo sul canale 115 Ma sappiamo che un video c'è, ti va di raccontarcelo, di dirci com'è nato Allora, senz'altro, il video è stato diretto dalla regia di Tommaso Campana Che è il direttore fotografico di tutto il progetto E i due attori sono Emanuele D'Ercoli e Nicole Marchiori Che sono due amici miei ma che stanno iniziando anche una carriera insomma come attori E spero di essere d'aiuto con il video Il video è fondamentalmente ambientato negli anni 60 È stato scritto dopo una chiacchierata di un'ora e mezza con i miei nonni E racconta la storia vera di una delle prime volte che loro uscivano insieme Dove gli sono successo di tutto, insomma, gli hanno rubato una borsetta Sono corsi dietro al ladro, eccetera Noi abbiamo reinterpretato tutto quanto E io sono tutti i personaggi Oltre loro Ho questi due amici che interpretano i miei nonni da giovani E io sono il pasticcere, il ladro Un menestrello che passa Insomma, quindi Come se fossi stato io a intrufolarmi un po' nel passato E generare quella giornata che poi li ha legati E magari è uno dei motivi per cui esisto oggi Poi, no, a livello genealogico Bellissimo, bellissimo Ma poi un'altra domanda che viene proprio spontanea, no? Ascoltando questa canzone A quale zona, a quale quartiere di Roma sei più legato comunque? Perché tu racconti Roma con la consapevolezza di chi comunque l'ha vissuta Certo Allora, io sono di Torpignattara Tra Torpignattara e il Pigneto E sono cresciuto, no? Tutta la fase della scuola, eccetera A Centocelle E il disco in realtà però è stato scritto tutto a Porta Metronia Perché sono stato in affitto lì un anno Ed è stato l'anno clou E credo che anche, no? Questo passaggio per Porta Metronia Abbia aiutato un sacco a esprimere poi alcuni accenti di romanità Perché, non lo so, respiravo un'aria particolare lì E questo Certo No, ma poi una cosa molto bella secondo me Ne parlavamo proprio fuori onda Questo stornello romano, diciamo, in origine Canta Vecchia Roma, la Roma come era prima Il fatto che tu l'abbia ripreso è come un dire Vecchia Roma due volte Non so come dire, un ricordare una Vecchia Roma Da una Roma però completamente nuova Perché, insomma, la Roma del 2022 Che quindi è quella che viviamo noi È molto diversa da quella degli anni 60 Che a sua volta è molto diversa da quella degli anni 40, 30 Quindi, insomma, come vivi questa Roma del 2022? Ti piace come città? È vero che Roma è uno dei posti più belli del mondo? Sì, sì, lo dico sempre A me quando sono all'estero mi fanno Where are you from? Io rispondo from Rome Non from Italy, proprio from Rome Comunque, no, questa cosa che hai detto tu È esattamente quella che volevamo fare noi Cioè mettere un po' a confronto il passaggio, no? Dalla Roma degli anni 60 e la Roma di oggi Quindi come mi trovo? Mi trovo benissimo Quello che dico è che Comunque, no, quando diventa Metropoli Sorgono dei problemi È inutile non guardarli come, no? Poi lo dico anche nella seconda strofa Insomma, problemi legati a tantissime tematiche Che poi non è questa la sede di cui discutere Però l'importante è Metterle nella seconda strofa Non nella prima, insomma Sapere apprezzare quello che c'è intorno Sapere apprezzare la storia È una delle città che è in grado di dare Tantissimo a chi la guarda Insomma, è un museo a cielo aperto I poeti a Trastevere Che oggi sono diventati gli americani Insomma, i turisti Hanno modo di toccare con mano la storia Insomma, penso qui più che altrove Eh sì, assolutamente sì Guarda, due domande in chiusura La prima è Dove possiamo seguirti? Dove possono trovarti i nostri ascoltatori? Quindi social, canale YouTube Insomma, ovunque, insomma E la seconda è Progetti futuri? Puoi spoilerarci qualcosa? Ok, allora Dove mi trovate? Su Instagram R. Ora qui la questione è R. scritto a parole Quindi E-R-E-P-U-N-T-O Dove la U non era disponibile È diventata una V Ok, ci stai complicando un po' la vita Però R Con il punto Con la V al posto della U Perfetto Esattamente Poi invece il disco è disponibile ovunque Nuovi progetti Ci sono anche video su YouTube R.tv il canale Mentre nuovi progetti Noi siamo in una fase In cui penso di avere Eventi provini attivi Dove però stiamo cercando Di capire insomma Come gestire la situazione Ma la cosa divertente È che io ora mi trovo in macchina Perché finita l'intervista Andrò a fare il mio primo corso Di chitarra Tant'è che ho qui con me la chitarra Ah che bello Facciamo un inserimento Inseriamo questa particolarità Anche nel progetto Quindi questo è il grande spoiler Poi quali canzoni usciranno Non lo sappiamo neanche noi per ora Allora noi ti auguriamo davvero il meglio Perché te lo meriti Tanti complimenti per tutto quello che stai facendo Buon corso di chitarra E vieni presto a trovarci qui a Radio Roma Magari magari sarei voluto venire tantissimo E quindi aspetto veramente un invito Perché poi Radio Roma per me Insomma la conosco L'ascolto L'ascoltava mio zio Quando mi portava allo stadio Quindi Un abbraccio grande allora